Ciao a tutti! Mi piacerebbe raccontarvi di un mio grande desiderio. Vorrei entrare nelle nostre case insieme a tanti grandi ospiti per far si che arte e moda, cultura e spettacolo si fondano per vita un programma che dalla meravigliosa terra di Sardegna faccia il giro di tutto il mondo. Beh, io ci provo! E adesso arriva il bello! Da venerdì 4 marzo alle ore 20 e 30 su Ranzatv E adesso arriva il bello! www.ranza.tv Vi aspetto!